è ora di pensare ai nostri amici a quattro zampe biscottini per cani ricetta manuale non guidata abbiamo farina integrale una carota mela e un po di yogurt un'alternativa e latte ed ecco willy prontissimo metto nel boccale una carota e una mela vado a tritare per 5 secondi alla velocità 8 visco sul fondo con la facola aggiungo nuovo 2 grammi di yogurt e 370 grammi di farina spiga a tre minuti anche olga in attesa di assaggiarli preparo la teglia di carta da forno e faccio le formine che più mi piacciono lo stampino ad osso per cui comincio a dare le forme ecco qua pronti per essere infornati a 150 gradi per 35 40 minuti si possono fare anche a quadratini più piccoli e si può fare anche una sortina di compleanno ecco gli appena sfornati vai vai 2 Grazie.